Aria di grandi sfide che contano, aria di grande volley, dal Palaiper di Monza, Saugella team ospita Riso Scotti Pavia, Rodolfo Palermo e Ester Franco al microfono. La battuta ai Cogliandro, la difficoltà in ricezione di Astarieta, è un EIS. Primo errore forse in ricezione per Astarieta in questa partita, arriva però in un momento delicatissimo. Giuse Astarieta ancora dai 9 metri, set point, l'ultimo dei tre che aveva avuto a disposizione Pavia, la deconale stretta di Flavia e difesa da Saugella, Balboni amministra per Bonetti, c'è la difesa di Poma a salvare, poi Assirelli non può forzare, altra possibilità se la gioca Bonetti, palla a terra Marica Bonetti, punto del 24 pari, applaude il Palaiper. La ricezione di Ginevra Poma, Fernandini accelera per Assirelli, murata da Benni Bruno, finisce qua il primo set, 26-24 Saugella che chiude con un parziale di 5-0. La battuta di Benni Bruno, ricezione di Flavia, Fernandini all'indietro per Assirelli, si salva ancora Saugella con l'intervento muro di Devetag. L'attacco a tutto braccio di Teresa Matuzkova, a perforare il muro di Pavia, sta prendendo in mano la situazione. La ricezione di Astarita, questa volta perfetta, Balboni per la fast di Devetag, chiamata fuori la palla, ancora un errore. La battuta di Assirelli, la ricezione di Bonetti, Balboni all'indietro per Matuzkova, murata da Asia Cogliandro, finisce qua. Uno pari in virtù del 20-25. La ricezione di Astarita, Balboni per attacco rapido al centro di Devetag, ancora fermata dal muro. Matuzkova a tutto braccio, ci pensa lei. Ma sul profondo la ricezione di Flavia, Fernandini appena a catena, il muro di Martina Balboni, chiude i conti. L'attacco di Flavia, sopra il muro, c'è la difesa di Bisconti, Balboni amministra per Bonetti, ci mette il pugno Poma di Bonifacio per Flavia. La manda di là, la difesa di Astarita, poi Matuzkova a tutto braccio, fermata dal muro, c'è poi la palla accompagnata. Astarita sul profondo la ricezione di Poma, Fernandini al centro per Cogliandro, c'è la difesa di Matuzkova. Saveriano per Bonetti a tutto braccio, fermata dal muro, altra possibilità, Saveriano ancora per Bonetti a tutto braccio, un banni fuori, 18-21, attenzione perché non è finita. In causa Matuzkova che non può attaccare quella palla, Sirelli in murata, altra possibilità per Pavia, il pallonetto di Flavia, tiene viva la palla a Matuzkova. Astarita decide di forzare con gran coraggio, chiude il punto Devetag, ma che coraggio giunge Astarita. La battuta di Saveriano a ricezione di Flavia, Fernandini all'indietro per Assirelli, la gran difesa di Saveriano, poi Bisconti per Matuzkova che può solo appoggiare, altra possibilità. Flavia, il muro ferma, chiude la difesa a Saveriano, Bisconti alza in bagger per Matuzkova, tutto braccio, mani fuori, sorpasso Monza ed è match point. Uno degli altri, torna a farsi sentire nei momenti pesanti, a battuta di Saveriano, Bonifacio a mani aperte, l'attacco di Garavaglia, la difesa di Bisconti, Astarita, Matuzkova, di Bonifacio Salva, Fernandini di secondo tocco, ma arriva il muro di Francesca Devetag che chiude subito i giochi, vince Saugella, 3-1, che partita, che finale.